Palla 2 domani alle 20.30 per Faenza, Magnolia Basket, Campobasso. Entrambi i quintetti sono appaiati a quota 4 in classifica per le padrone di casa, secondo match consecutivo con il favore del parquet. De Gregorio e Cone le prime 5 di campionato hanno migliorato la fase difensiva. Bisogna adesso mantenere costante la fase d'attacco con qualche calo di concentrazione che è costato il referto giallo come sabato scorso nella gara interna contro l'Empoli, persa praticamente a due secondi dalla sirena. I fiori d'acciaio arrivano al confronto in casa delle Emiliane con due sconfitte consecutive sul gruppone, Bologna prima ed Empoli poi. Settimana di intenso lavoro per le Rosso-Blu in viaggio verso Faenza con l'organico al completo e tante motivazioni. Dalla loro le Romagnole sono una formazione molto solida con un riferimento assoluto sul parquet come Sigmona Ballardini, per lei parlano numeri ed una carriera di tutto rilievo, sia in maia azzurra che con club di prima fascia di A1 come Schio, Priolo e Taranto, senza dimenticare la parentesi francese a Bourges. Il Faenza può contare anche sull'esterna Federica Franceschelli, vincitrice del campionato lo scorso anno con Bologna. Insomma, un roster pericoloso, ma la Magnolia Basket a campo basso non è da meno. Tra le fila Rosso-Blu Giulia Ciavarella, chiamata dal commissario tecnico dell'Italia Basket Rosa Marco Crispi a far parte del gruppo delle 26 giocatrici a disposizione per i primi due impegni, in vista delle qualificazioni all'Eurobasket 2019 in programma tra Serbia e Lettonia, ma oggi Giulia Ciavarella è concentrata solo sul campionato. Vediamo. Siamo una squadra in cresce, 10 persone che appunto stanno lavorando giorno dopo giorno nel metodo di allenamento e che i risultati si vedono. L'ultima situazione si fa a Faenza sabato, è una partita da prendere con le molle? Sì, è una bella squadra, soprattutto perché ha giocatrici molto esperti che si conoscono da tempo, sono rognose, però ci crediamo come abbiamo creduto in tutte le altre partite, esattamente così.